seconda rete seconda rete ad opera di ecco scusate stavo distratto chi l'ha fatto il gol manuele e chi l'ha fatto nicola chi l'ha fatto il gol chi l'ha fatto la rete casegnato a mata ha raddoppiato scusate scusate ma stavo distratto 2 a 0 fino a questo momento gran gol di teidi mata il numero 11 teidi mata ha raddoppiato doppietta fino adesso per mata 2 a 0 conduciamo qua della vittoria di via nazionale